Le ultime verso Genoa-Inter di domani sera e in chiusura di contenuto due parole molto rapide sul calciomercato ed in particolare sull'ombra dell'Arabia Saudita che torna ad allungarsi su alcuni giocatori dell'Inter con anche una novità molto importante a livello generale di cui si sta parlando proprio in queste ore e sulla quale quindi vi farò giusto un accenno ma poi attendiamo notizie ufficiali. La priorità però è per il campo domani sera l'Inter torna a giocare l'ultima partita del 2023 come anno solare e lo farà in casa del Genoa una squadra che per certi versi ha sorpreso fino a qui ed una squadra che in casa ha già fatto vittime importanti tra le big del nostro campionato. Ben ritrovati allora amici e amici Passione Interisti subito vi chiedo un click come sempre sul tasto mi piace e sul tasto iscriviti per far chiudere al meglio anche a noi di Passione Inter questo 2023 che è stato veramente un bellissimo anno pronti poi a cominciare il 2024 sempre tutti insieme per tifare Inter ogni giorno. Cominciamo allora dalla partita molto velocemente con delle novità dal punto di vista anche degli infortunati dei disponibili e degli indisponibili. Il Genoa per diverse settimane ha avuto alcuni giocatori indisponibili per la gara contro l'Inter di fatto recupera tutti. Gli ultimi due rimasti con qualche problemino erano Reteghi e Messias ma dalle ultime novità dovrebbero essere entrambi a disposizione. E addirittura l'attaccante italo-argentino dovrebbe tornare anche a giocare titolare. L'unico dubbio ad oggi sembra essere quello relativo a Kevin Strotman che non è al meglio ma che sarà comunque a disposizione quantomeno per la panchina. In casa Inter invece ha qualche novità dovrebbe farcela Dumfries però anche lui per la panchina è fuori da qualche settimana e l'Inter potrebbe non avere al meglio delle sue condizioni Davide Frattesi. Ieri ha avuto la febbre e quindi non dovrebbe essere in dubbio per la panchina anche lui ma magari non sarà al meglio delle condizioni. Tra gli altri indisponibili tornano a lavorare in palestra e poi con l'obiettivo verso il Verona Lautaro Martinez e Di Marco che quindi non ci saranno. E a livello di formazione fra poco lo vediamo potrebbe tornare titolare Benjamin Pavard. Probabilmente al posto di Bissec però vediamo dopo qualche partita in cui è tornato a tutti gli effetti disponibile potrebbe ritrovare la maglia da titolare. Non è ancora certo perché Bissec comunque sta facendo molto bene e in ogni caso sulla carta secondo me parte davanti nelle gerarchie di questo periodo di stagione però potrebbe essere la partita giusta per ridare minuti a Benjamin Pavard. Le due squadre quindi si affronteranno con un 3-5-2 modulo speculare. Gilardino dovrebbe schierare Martinez in porta, Dragusin, Bani e De Winter in difesa. Sabelli, Malinowski, Badel, Fredrup e Vasquez a centrocampo. Gudmundson al fianco di Reteghi. Come vi dicevo dovrebbe partire lui titolare. Risponde in zaghi con il 3-5-2. Sommer in porta. Bissec barra Pavard vedremo a Cervi e Bastoni in difesa. Darmian, Barella, Cerenoglu, Mkhitaryan e Carlos Augusto a centrocampo. Coppia d'attacco tra virgolette obbligata. Turam, Arnautovic. Lautaro non c'è però l'Austriaco contro il Lecce ha fatto un buon secondo tempo, ha dato dei segnali di ripresa e ci aspettiamo un po' tutti che appunto continui a migliorare e magari riesca anche a sbloccarsi con un gol che gli farebbe molto molto bene. Anche a livello mentale e soprattutto riascoltando anche le dichiarazioni che ha fatto proprio nel post partita di Inter-Lecce. Due parole veloci anche sul Genoa perché è una squadra un po' particolare. Ha delle caratteristiche, mi verrebbe a dire strane, ma in un senso neutro, non negativo del termine. Intanto una cosa importante. In casa il Genoa non perde da due mesi e mezzo e contro le big del nostro campionato ha fatto 4-1 contro la Roma. Due a due contro il Napoli, 1-1 contro la Juve e l'unica sconfitta, che è proprio l'ultima sconfitta in casa, è stata contro il Milan, ma vi ricordate tutti il modo con cui è arrivata, con quel gol negli ultimi minuti di Pulisic dopo un controllo evidentemente di mano che però nel VAR, nell'arbitro hanno rilevato. A livello di numeri, è terz'ultima per percentuale di possesso palla, pur avendo secondo me una squadra rapportata al livello con una discreta tecnica. Malinowski è centrocampo, Badel è un po' il regista della squadra. Gudmundson è un giocatore che in questa prima metà di campionato ha fatto vedere tante belle cose, soprattutto nell'uno contro uno, nel dribbling e con queste caratteristiche qui. Quindi le altre statistiche secondo me interessanti che ha messo insieme il Genoa sono intanto terzo posto per duelli aerei vinti a partita, 16.5 alle spalle solo di Verona e Atalanta, è prima per contrasti a partita e seconda per passaggi intercettati a partita, anche qui dietro all'Atalanta. Nonostante tutto questo, non è però una squadra fallosa, è più o meno a metà classifica come dato sui falli. Quindi io mi aspetto una squadra che probabilmente lascerà più possesso palla all'Inter, che invece al contrario è una squadra che spesso comunque ama gestire il pallone. È una squadra fisica rocciosa dal punto di vista proprio atletico, l'emblema probabilmente in questo senso è proprio quel Dragusin che in difesa sta facendo molto bene e ha già attirato l'interesse di diversi club, non solo italiani. Una squadra che a livello offensivo si affida molto all'estro di Gudmundson, che fin qui ha fatto nove gol e due assist in stagione, e anche alle fiammate di giocatori come lo stesso Reteghi, che più volte ha convertito in gol palloni che spiovevano in area, o anche lo stesso Malinowski, che conosciamo bene soprattutto per quel sinistro da fuori area impressionante che ci ha fatto vedere sia all'Atalanta ma un paio di volte anche al Genoa. A livello offensivo, altro numero particolare, è ultima per tiri e per tiri in porta a partita, il Genoa, e al contrario l'Inter è prima in classifica per minor numero di tiri concessi. Quindi anche questo ci fa capire che probabilmente, diciamo, l'inerzia della partita sarà più dalla parte dell'Inter, però chiaramente vedremo. E a livello di distribuzione sul campo, il Genoa tende ad attaccare un pochino più dal lato destro del campo, piuttosto che dal sinistro o dal centro. Sulla destra, vi dicevo, dovrebbero giocare Sabelli e come mezzala appunto Malinowski, che giocando a destra può rientrare sul mancino e scaricare il tiro. Mentre Gudmundson in attacco è destro di piede, però tende a svariare molto, a coprire un po' tutte le zone, perché appunto è un giocatore di dribbling e di estro. L'Inter, come sappiamo, approccerà credo la partita nel solito modo. Viste queste statistiche, mi immagino una gara con un maggior numero di minuti, col pallone tra i piedi, per noi. Un tipo di partita che potrebbe favorire per esempio Bissek, che come dicevamo si trova molto bene nelle gare in cui l'Inter domina l'avversario e può, diciamo, controllare maggiormente il pallino del gioco. Sono curioso di capire che tipo di gara offrirà Arnautovic. Perché, ripeto, con l'Ecce io l'ho visto in ripresa, ho visto dei segnali interessanti, nonostante quei due gol importanti e sbagliati, contro una difesa che magari sta anche piuttosto stretta e una difesa molto forte fisicamente, forse Arnautovic non essendo ancora al 100% a livello fisico potrebbe un pochino soffrire, perché non è ancora magari al massimo della mobilità e della brillantezza. Però io, e non solo io, ma anche in società, confido molto su Marco, perché è chiaro che Lautaro e Turam sono i titolarissimi, però non possiamo pensare che appena uno dei due ha un piccolo problema l'Inter vada a sfasciarsi completamente. Dobbiamo cercare di dare fiducia al nostro Arnautovic con in panchina chi? Alexis Sanchez. E allora mi collego alla ultima parentesi di questo contenuto, un breve accenno sul mercato. Perché? Perché come vi raccontiamo ormai da tempo, gli occhi dell'Arabia Saudita, e non solo, si sono posati su Alexis Sanchez, un Sanchez che però in questo momento sembra aver rifiutato, o comunque congelato, le proposte che arrivano appunto dall'Arabia Saudita. Pare che voglia giocarsi tutte le ultime carte e l'ultima metà di stagione qui all'Inter. E allora l'Arabia Saudita cosa ha fatto? Si è spostata da Sanchez a Cialanoglu. Questa è la novità di giornata. La Gazzetta dello Sport ha rilanciato questa notizia, secondo cui l'Al Ilal, uno dei tanti club di cui si è parlato anche in estate, avrebbe proposto a Ciala quattro anni di contratto a 18 milioni netti a stagione, che sono più o meno il triplo di quanto prende all'Inter. mal contati. Una offerta che i Sauditi gli avrebbero avanzato per questa prossima sessione di calciomercato invernale, ma che sarebbe valida anche per l'estate prossima. La notizia positiva è che Cialanoglu, almeno per il momento, avrebbe detto no, vorrebbe rimanere all'Inter, giocarsi appunto la stagione, e cercare finalmente di vincere lo scudetto con la maglia nerazzurra. Io non so chiaramente se questa notizia sia a tutti gli effetti concrete, se questa offerta possa essere confermata anche per l'estate. Il problema dell'Arabia Saudita lo conosciamo bene, in qualche modo ha coinvolto anche noi, visto che tra i vari acquisti che hanno fatto in estate c'è stato anche Marcello Brozovic. Io vi ho detto che per ora Cialanoglu dice no, non perché io non abbia fiducia o stima del ragazzo, però è evidente che quando proposte sono così importanti, io parlo personalmente, non riesco ad escludere al 100% che magari alla fine uno ci ripensi e decida di andare. Non credo a gennaio proprio per il motivo che vi dicevo, e cioè che l'Inter è in testa alla classifica, è nel bel mezzo di una stagione importante e sono convinto che tutti all'Inter vogliono rimanere qui e provare a vincere. E questo è un grande, diciamo, valore che negli ultimi anni nell'Inter io vedo sempre di più. Un legame più profondo rispetto a chi in altri club, all'ambiente, alla maglia e alle ambizioni. Poi in estate chiaramente tutto potrebbe cambiare, ma tutto potrebbe cambiare anche sulla base di un'altra cosa, ed è quell'accenno che vi dicevo prima. Avete letto che in queste settimane si sta parlando moltissimo del decreto crescita, che è questo meccanismo che consente ai club italiani di acquistare giocatori dall'estero e poter garantire loro un ingaggio, tecnicamente un ingaggio netto più alto, perché il lordo viene, diciamo, decurtato, la percentuale del lordo rispetto, per esempio, a quello che accade in altri stati. In questo momento si sta parlando a livello governativo di abolire il decreto crescita, questo chiaramente cambierebbe in peggio le prospettive economiche dei nostri club a livello di mercato, tant'è vero che è una delle poche cose la richiesta di bloccare la sospensione del decreto crescita, che sembra aver messo d'accordo tutti i 20 i club di serie A, che invece spesso sono molto litigiosi. Ecco, la novità delle ultimissime ore sulla quale si sta vociferando, quindi ve la butto lì come ipotesi, ma approfondiremo eventualmente quando e se sarà ufficiale, potrebbe essere quella della sospensione del decreto crescita, o meglio, dell'abolizione del decreto crescita, non a partire dall'1 gennaio del 2024, ma da fine febbraio. Scelta questa che consentirebbe ai club italiani di operare per l'intera sessione invernale di mercato, con ancora la possibilità di sfruttare il decreto crescita. E questo potrebbe portare alcuni club a scegliere di anticipare dei colpi, magari programmati per l'estate, in modo tale da poterli fare in un momento in cui il decreto crescita è ancora attivo. L'Inter sta facendo questa cosa con Buchanan del Bruges, di cui abbiamo parlato negli scorsi giorni. Non è che lo sta anticipando perché c'è il decreto crescita, lo sta anticipando perché si è fatto male al quadrado e sta facendo una serie di ragionamenti. Però il meccanismo potrebbe essere questo. Ma come vi dicevo, eventualmente ne parleremo più avanti. Questo era tutto. Fatemi sapere allora nei commenti cosa ne pensate di questo Genoa, se siete fiduciosi sulla nostra Inter o se invece avete paura che questa volta possiamo non vincere. È possibile. Io vi invito ancora a cliccare sul tasto mi piace, sul tasto iscriviti, a passare anche dal club di Passione Inter, www.passioneinter.club, anche perché oggi è giovedì e come ogni giovedì a partire dallo scorso, abbiamo introdotto un nuovo appuntamento dedicato unicamente ai nostri abbonati su Discord, il watch party del club di Passione Inter. Ogni giovedì sera ci riguardiamo insieme o vecchie partite del passato o documentari sul calcio o servizi televisivi, qualsiasi cosa che possa riguardare l'Inter o il calcio ce la guardiamo insieme ogni giovedì sera. Quindi quale migliore occasione per entrare a far parte del nostro club. Ed infine, come ogni volta, per chi mi segue in podcast lo lascio in descrizione, se invece mi segui su YouTube ti lascio un altro contenuto da recuperare qui alla mia destra. Ciao! Ciao! A presto! musica! Grazie a tutti.